L'avvocato Alberto Piasciucci che ci renderà anche la storia, attraverso la storia di questo crimine, anche la storia dei deboli, dei bambini appunto, perché il nodo centrale è che qui un bambino è stato buttato, sì, proprio per colpire la madre, cioè non è che il padre ce l'avesse col bambino, il padre era, il bambino era un tramite, era per fare dolore alla persona odiata a questo punto, quindi ecco, mi sembra almeno doveroso che quest'uomo stia in galera, quantomeno. Speriamo che ci stia a lungo, perché purtroppo la normativa si è fatta un po' troppo benevola con i criminali e mio padre che era avvocato e era figlio di un'altra epoca e quindi era assolutamente contrario a un processo di stampo inquisitorio come l'avvio. Adesso si è passati al, diciamo, al programma traito accusatorio e quindi le cose sono evolute, forse un po' troppo a favore di chi tende a violare la riccia. Soprattutto adesso ci sono tre provvedimenti che formano un cocktail troppo forte a favore di come creati molto violenti, molto rari. Se c'è c'è il rito breve che prevede lo sconto di un terzo della pena e se la pena è dell'ergastro, dell'ergastro di un terzo di 30 anni. Quindi questo gentiluomo che ha ucciso il figlio è praticamente stato conmalato all'ergastro, ma con il tuo breve che si è mortato da un terzo di 30 anni. Cosa avviene? Voi direte, vabbè, 30 anni sono sempre tanti. No, non è così, perché già da metà pena, se tu, diciamo, sei stato in buona condotta, ma più che di buona condotta, di condotta obbligatoria, obbligata, normale, godi del beneficio dopo metà pena del dentro e fuori, cioè vai a lavorare fuori e rientri la sera, quindi già c'è una segna libertà. Quindi da 30 scendiamo a 15, ma non sono 15, perché l'anno carcerario non è, come forse voi ipotizzate, di 12 mesi. Lei lo sa quanto dura l'anno carcerario? No, e no, e poi a parte che ci mi ha vissato una rivelazione. Adesso glielo dico che si attorciteranno le budelle, come ne stava parlando con lei. L'anno carcerario dura nel 12, nel 10, nel 9 mesi, nel 8 mesi, ma 7 mesi 7. Cioè tu in 7 mesi 7 mesi, 7 anni ne sconti 12. Quindi questo gentiluomo inizierà anche a vedere del dentro e fuori molto presto. Poi darsi che escono, lo ritrovo qui fuori e mi raccocco, perché mi ha guardato con odio, ha guardato con odio al processo, la mamma del piccolo Claudio, la fissata per 30 secondi con noi, la nonna, la sia ed anche me, perché ha capito che io, ma io poi conosco questa famiglia da 25 anni. Quindi anzi, vi volevo dire che rappresento più una famiglia di sole donne, perché in quella casa il nonno è morto tanti anni fa, quindi il padre l'ha perso dopo 3 anni, quindi la famiglia della mamma del piccolo Claudio è composta da la nonna, da lei e dalla sorella, cioè l'azio del piccolo Claudio. Quindi il piccolo Claudio era circondato dall'affetto di 3 donne che lo adoravano, perché era il mio botino. Quindi la bevva feroce ha voluto colpire la mamma e tutta quella famiglia di donne con questo gesto, con questo patto. Io devo ringraziarvi innanzitutto per l'invito che mi avete fatto per oggi e appunto ribadire che rappresento una famiglia di sole donne e quindi non mi sento più estraneo, non mi sento più uomo, ma rappresentante proprio di una famiglia di donne. Ringrazio Roma capitale anche in questa sede ed aver dato un significativo e un importantissimo contributo anche processuale in questa vicissitudine, addirittura mettendo a disposizione processuale proprio il capo dell'avvocatura che si è costituito partecipito nel processo penale e quindi si è affiancato a noi con grande professionalità e ha portato avanti le istanze di teoria, una capitale che ha visto macchiato nel mondo la loro immagine e che questo fatto poi ha avuto una ressonanza all'estero perché un fatto così non c'era mai stato, c'era stato un padre che tanti anni minori aveva portato nel fiume un bambino, ma diciamo lì era un bambino focomerico quindi il padre aveva una sofferenza mudevolissima, non l'aveva accettato, era stato una cosa di grande tormento. Questo invece è un fiumicidio triangolato, come io dissi subito al comandante della stazione dei carabinieri che l'hanno arrestato e hanno fermato, riconnettendo questo terribile fatto a quello di tanti anni prima di un padre che addirittura di figli ne uccise tre, trasformando la macchina in una camera a gas e uccidendo i tre bambini, Tullio e Britta. Infatti questa è una pratica che è appunto, come si diceva, il fiumicidio si è evoluto. Questa è una delle evoluzioni pesanti, però fortunatamente è ancora piuttosto limitata, ma il figlio che viene istigliato contro la madre ancora senza andare a un uccisione. Il figlio che viene usato come mezzo, quello è comodissimo, usare il figlio per fare pressione sulla madre, a volte ha a cavità anche inverso, quindi voglio dire che ci sono anche donne, però normalmente questo bambino in mezzo senza arrivare ad essere ucciso. Spesso nelle questioni madre e padre è quello che viene proprio usato, è proprio un mezzo, non più una persona. Io volevo anche, ecco, magari interrogarci insieme sul fatto della certezza della pena che le donne spesso non denunciano, hanno paura a denunciare, perché ecco, questo personaggio chiaramente è un reo di un delitto atroce, sarà fuori da pochi anni. Quindi è evidente che una donna ha una difficoltà a affidarsi delle istituzioni e andare a denunciare, perché comunque si sente non protetta, si sente in pericolo, ne sente in pericolo se e addirittura in più ai suoi figli. Cresce il pericolo più che essere intesa denunciando. C'è questo delle volte anche dell'altro, qui purtroppo la mamma dei piccoli ragazzi era stata colpita di un indorento pugno al naso da questo e mi accompagnai la nonna e lei era all'ospedale, la mamma era convinta che la figlia si regasse lì appunto alla stazione interna della polizia e lei non vola. In quel momento mi caddero le braccia perché capì che non sapevo la seconda puntata quale sarebbe stata e quale sarebbe stata la terza. Perché si però lo lasciò, lo lasciò, lo lasciò dopo 8 mesi che l'ha perdonato, l'amore che ne so, io lo faccio a capire. Quanto sta l'ha perdonato per la seconda puntata. Ci saranno stati senz'altro altri piccoli risultati di violenza, di pizzi sulle braccia, io poi non sapevo, poi io non è che avevo potere in quella famiglia perché non sono nessuno, li conosco da 25 anni, però più che dire a Claudia ma sei sicura qual lasso è giù, non è che ti puoi esporre più di tanto perché non è che sono il padre dell'ozione famigliare. Quindi purtroppo il secondo round, la seconda puntata è stata l'uccisione del bambino che è stato preso proprio per un oggetto, come si legge in sentenza, ed il mostro voleva il bambino oggetto che era suo e non della suocera, perché lui nella testa sua distorta vedeva una rivalità con la suocera perché era protettiva nei confronti del bambino del bambino e della mamma, ma una suocera che si prende i mezzi da trastevere e fa accorgliare l'obbligato, va lì e smonta le tende e lava e fa il bucato e lo stende, se ne ritorna con il piccolo a casa per dare soglievo alla figlia, lo fa dormire, lo mette a letto, prepara la rabbina della sera, lo riporta il giorno dopo e poi dopo due giorni ritorna e fa questo giù, ma non era un'ingerenza, era un aiuto che voleva essere forte, voleva essere sostanzioso nei confronti anche di questo uomo che tra l'altro neanche avesse un lavoro, un lavoro di un po' così, tant'è che si era preso una condanna per piccolo spazio. Grazie.